I carabinieri di Ortona in queste ore continuano a raccogliere elementi utili per far chiarezza sulla morte di Lorena Paolini, la donna di 53 anni, morta domenica scorsa nella sua abitazione nella zona artigianale di Contrada Casone ad Ortona. Sul caso la procura di Chieti ha aperto un'inchiesta per omicidio a carico di ignoti a creare sospetti sul decesso della povera Lorena, un solco sul collo notato dagli operatori del 118 che hanno allertato i carabinieri immediatamente intervenuti sul posto insieme al pubblico ministero sostituto procuratore Giuseppe Falasca e al medico legale Cristian Dovidio. Si attende dunque l'autopsia che dovrebbe essere effettuata in settimana al Santissima Annunziata di Chieti per avere le risposte che tutti cercano. La donna è stata trovata dal marito, rientrato dal lavoro verso l'ora di pranzo in fin di vita sul divano, è stato lui a chiamare il 118 ma i sanitari purtroppo non sono riusciti a strapparla alla morte. Ieri pomeriggio in caserma i carabinieri hanno continuato ad ascoltare familiari e conoscenti come persone informate sui fatti. Lorena Paolini era una donna conosciuda per la sua solarità, per le sue passeggiate con l'inseparabile cane, per l'attenzione verso le due figlie e la famiglia tutta. La casa è stata posta sotto sequestro per le indagini in corso. La notizia della sua morte, così improvvisa e forse con risvolti ancora da scoprire, ha lasciato tutti sgomenti, tante incredulità e numerose sono le attestazioni di affetto di chi la porterà sempre nei suoi ricordi.